Ben ritrovati per continuare il nostro viaggio attraverso gli itinerari della pace, un viaggio tra storia e fede ai tempi della grande guerra che nasce con il sostegno della regione per la valorizzazione del territorio veneto e che oggi ci porta proprio a fare un altro cammino in particolare legato alla fede. È il cammino segnato dalle vie dei papi sulle montagne bellunesi, è anche in questo caso un percorso che sta conoscendo una operazione di riqualificazione e di valorizzazione all'interno di un progetto portato avanti dalla regione Veneto ed è un cammino che oggi ci vede accompagnati da Stefano Deon, sindaco di Sedico. Signor sindaco ben trovato in questo spazio, ha un compito impegnativo lei oggi perché deve farci conoscere una via segnata da due figure molto importanti per il territorio bellunese, ma non solo. Tra l'altro vi ricordo che per conoscere anche più nei dettagli i percorsi, non solo quello sulle vie dei papi ma anche gli altri itinerari della fede predisposti dalla regione Veneto, c'è un sito, il sito è www.camminidellafedeinveneto.org, e quindi qui si possono conoscere tutti i dettagli di questa operazione molto importante perché ci permette, vediamo se il sindaco è d'accordo con me, di riappropriarci anche dei nostri territori attraverso le testimonianze della fede. In questo caso specifico e non solo perché è un'immersione nella quotidianità, nella vita di oggi, di territori che comunque hanno questi gioielli, queste perle che ne scandiscono il percorso. Sì, decisamente questa è una grande opportunità di riconquistare il nostro territorio e di valorizzare il paesaggio veneto e bellunese in particolare, partendo appunto dalla vita, diciamo, ripercorrendo la vita di queste due grandi figure che sono state Papa Giovanni Paolo I e Papa Giovanni Paolo II. Ecco, ricordiamo che in realtà Giovanni Paolo II non è un papa di questi territori, che lo ha diventato per adozione perché Lorenzago è stato il luogo dove Giovanni Paolo II ha deciso di passare le sue estati. L'altro papa propriamente del territorio è Giovanni Paolo I, ma c'è anche un altro papa che ha conosciuto i Natali in questi territori, che è Gregorio XVI. Gregorio XVI, sì, che è stato papa fino al 1846 per 15 anni. Quindi, diciamo, questo percorso però di valorizzazione del territorio, questa via dei papi nasce appunto dalle vite di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo I che è nativo di Canale d'Agordo e quindi questa via ripercorre sostanzialmente la vita di Giovanni Paolo I, quindi la sua nascita a Canale d'Agordo, i suoi studi seminaristici a Feltre e poi la sua nomina a Vescovo di Vittorio Veneto che poi è stato il lancio verso il soglio pontificio e quindi poi Vescovo di Vittorio Veneto, patriarca di Venezia e poi è stato eletto papa. Papa, un pontificato brevissimo. Un pontificato brevissimo ma ricco di significati che ha lasciato un segno forte nella storia dell'umanità, penso. Sì, decisamente non solo per Canale d'Agordo e per i territori bellunesi ma per tutta la gente, insomma in 33 giorni comunque questo papa ha lasciato un impronte importante, tant'è che Carol Voitila poi ne ha ripreso il nome come Giovanni Paolo II. Quindi Canale d'Agordo e Lorenzago sono i punti di partenza delle vie dei papi inseriti nei cammini della fede in Veneto. Cerchiamo allora di capire qual è l'itinerario, abbiamo capito le partenze ma come si snoda? Attraverso quali altre città e quali altre, vedremo, caratterizzazioni di fede? I due punti di accesso come detto sono Canale d'Agordo e Lorenzago, quindi l'Agordino e il Cadore. I percorsi poi scendono lungo le aste rispettivamente del Piave e del torrente Cordevole. Scendendo a valle si ricongiungono, attraversano un paese importante, i quali Agordo per arrivare poi a Sedico, mentre dal Cadore si scende e si trova a Longarone, Pieve di Cadore, Longarone, Ponte nelle Alpi, Belluno. Da Sedico poi, che è lo snodo centrale della Val Belluno, da dove questi percorsi si congiungono, si scende fino a Feltre, quindi alla città di Feltre, passando per Santa Giustina, Cesio Maggiore, e da Feltre poi si risale lungo la sinistra Piave incontrando i paesi di Lentiai e Mel. Mel è il luogo dove poi si svalicano le prealpi e si scende in provincia di Treviso, insomma si va verso, passando il passo di Prade Radego, si scende verso Vittorio Veneto. Verso Vittorio Veneto, tra l'altro diciamo che questi percorsi, questi itinerari, erano un po' la porta d'ingresso anche dei pellegrini che arrivavano dal nord Europa, quindi si perpetua anche una tradizione che ha attraversato i secoli in questo senso. Certamente, queste erano vie che erano attraversate da secoli appunto dai pellegrini, sono vie che hanno, si ha notizia già, epoca preromana. Sicuramente le presenze di città come Belluno e Feltre, quindi che erano due municipi romani, fanno pensare che lungo la Val Belluna ci fosse una strada che sia stata utilizzata appunto da mercanti, da eserciti, ma anche da pellegrini che marcavano le Alpi per scendere poi verso la pianura Veneto. Quindi tanta storia che si è accumulata, tanta storia anche di fede. Vediamo quali sono alcuni di questi gioielli a cui facevo riferimento prima che possiamo trovare lungo questo percorso. Diciamo che questo percorso si snoda utilizzando la viabilità esistente, quindi percorsi esistenti, quali sentieri, mulattieri, ma anche strade comunali. Quindi attraversa tutta una serie di piccoli borghi e piccole zone che hanno delle peculiarità, dei luoghi di fede molto sentiti per la zona, quindi piccole chiese e capitelli. I luoghi più importanti che si possono visitare in Val Belluna sono sicuramente il santuario dei Santi Vittore Corona a Feltre, che è un edificio arroccato su un colle della Miesna. È dell'undicesimo secolo se non sbaglio, quindi veramente è antico carico di storia. È antico e carico di storia ed è veramente un gioiello, soprattutto a questa chiesa affrescata che è bellissima. Poi sempre a Feltre, il centro storico di Feltre di per sé merita una visita. Chiaramente si incontra il Duomo di Feltre che è un altro gioiello dal punto di vista architettonico. E qui abbiamo origini ancora più lontane, sembra. Origini ancora più lontane, sembra che ci siano paleocristiane addirittura. Esatto. Il Duomo di Feltre potrebbe essere luogo di culto importante perché è la concattedrale della diocese di Breno Feltre. Sotto il Duomo di Feltre, sul Sagrato, c'è un'area archeologica di epoca romana e pre-romana, bellissima, che merita una visita. Merita di essere visitata. Risalendo poi si arriva a Sedico dove c'è l'oratorio di San Nicolò, che è di proprietà del Comune, quindi è un piccolo gioiello di architettura che risale al 500, all'interno del quale è conservato un altare ligno con un trittico di pitture fatto da Agostino da Lodi, che è preziosissimo e merita una visita. Poi in località Cesio Maggiore c'è una piccola chiesetta che nasce, si hanno origini già dal 500, si hanno notizie già dal 500, sembra che lì ci fosse un capitello votivo che poi è cresciuto e è diventata proprio una piccola chiesa. È una piccola chiesa. In Comune di Sospirolo c'è la Certosa di Vedana, che è un luogo anch'esso che ha grande storia, su un luogo, un posto incantevole. Ci sono le monache di clausura ancora nel monastero? In questo momento no, in questo momento no, non ci sono le monache di clausura, sono andate via recentemente. Adesso c'è un po' di... sì. Dovrebbero arrivare qualche altro ordine ma ancora non si sa. Comunque c'è stata questa vita claustrale che ha caratterizzato per molto tempo, tra l'altro con alterne fortuna perché anche questa... è una Certosa se non sbaglio, no? Ha conosciuto nel Settecento i decreti della Serenissima che imponevano la chiusura, quindi abbastanza attormentata come storia. Esatto, la Serenissima ne aveva ordinato con un decreto la chiusura, poi i certosini lo hanno riacquisita nell'Ottocento e da lì ha ripreso vita ed è ritornato ad essere un luogo di vita e di culto e di preghiera. E di preghiera, esatto. Poi in questi ultimi anni a causa appunto del susseguirsi di ordini monastici all'interno si è un po' ha un po' perso il suo ruolo. Proprio questa vocazione certosina. Esatto. Però in ogni caso ha mantenuto questo cuore di fede molto importante, molto forte. Esatto. Ci sono anche altre... per esempio la chiesetta di San Nicolò a Bribano. Se non sbaglio questa qui ha dei legami molto forti anche con quelle che erano le tradizioni, i mestieri di quest'area. Certamente, era una chiesetta che era legata, è stata costruita sulla volontà di due persone del luogo che lavoravano, facevano i fabbri, perché Sedico era molto rinomato e famoso essendo zona di fluidazione del legname per appunto la lavorazione del legno e tutte quelle attività che erano connesse alla lavorazione del legno, quindi i fabbri che producevano le seghe proprio per tagliare il legno. Quindi questa chiesetta nasce dalla volontà della popolazione locale, in particolare di queste due persone del luogo, per costruire come luogo votivo. Anche perché San Nicolò, che appunto è la santa a cui è dedicata la chiesetta, era il patrono degli zattieri. Esatto. Se non ricordo male. Sì, era il patrono degli zattieri. E poi c'è una doppia dedicazione, se non ricordo male, in questa chiesa. L'altra è a San Rocco, protettore della peste. Sì. Un altro elemento che ha scandito la vita delle popolazioni anche in Veneto nei secoli e quindi spesso si trovano queste intitolazioni, queste dedicazioni a santi che protessero da grandi epidemie, pensiamo sulla Venezia per esempio, che cosa fu la peste. Quindi tutti questi elementi di fede, questi luoghi di fede, ci permettono proprio di dialogare anche con quelle che furono le caratteristiche, la storia dei territori. Attraverso i luoghi di fede conosciamo paesi, conosciamo genti, conosciamo pagine che non si sono perse proprio grazie a queste conservazioni. Esatto. Il turista, il pellegrino che ha la voglia e la fortuna di attraversare questi territori può appunto vivere questi territori, vivere nelle tradizioni che si sono conservate appunto grazie al lavoro delle popolazioni locali, delle genti locali che tengono in maniera particolare al loro paesaggio, al loro territorio, ai loro luoghi di culto. Torniamo allora ai cammini di fede. Questa via dei papi rientra in questo progetto molto articolato che vuole riqualificare e anche riattrezzare vie che altrimenti rischiamo un po' di perdere, magari non nell'interezza ma in alcune parti rischiamo un po' di perdere il tracciato e soprattutto rischiamo di non ricordare perché quella via è così importante, perché è così significativa. Il progetto che cosa prevede? Intanto sono diversi i comuni che sono coinvolti per quanto riguarda la via dei papi, magari proviamo a ricordarli? Sì, il progetto della via dei papi di cui il comune di Sedico è il capofila ricomprende 10 comuni in totale, quindi si parte dal comune di Ponte nelle Alpi, Belluno, poi c'è il comune di Santa Giustina, il comune di San Gregorio nelle Alpi, il comune di Feltre, il comune di Lentiai e il comune di Mel, appunto il comune di Sedico. Questo è il progetto che riguarda la parte, chiamiamola, del progetto che riguarda la Val Belluna, perché poi la via dei papi ha appunto un'articolazione che si porta verso nord, in Agordino e in Cadore, che ricomprende altri comuni, quindi in particolare i comuni della comunità montana-gordina e del centro Cadore. Quindi è un progetto che è già partito sostanzialmente, questo della riqualificazione, della riappropriazione del percorso? È un progetto che è già partito e quindi nella parte, diciamo, del Cadore della Gordino, grazie al lavoro, grazie a fondi europei, è un progetto che è già molto avanti e quindi alcuni di questi sentieri sono già percorribili. Qual è l'apporto che viene dato dai comuni all'interno di questo progetto? Ci sono dei finanziamenti che gestirete come verranno tradotti? Questo progetto viene finanziato per la gran parte dalla Regione Veneto, la Regione Veneto finanzia il 92% del progetto mettendoci 680 mila euro, i comuni devono cofinanziare la quota a parte che è dell'8%, quindi è un progetto che è di circa 738 mila euro. La divisione per ogni comune delle spese viene fatta in base alle opere che si vanno a fare. Le opere non sono opere invasive, è un recupero del paesaggio, quindi si va a recuperare sentieri, viabilità, strade che sono esistenti, quindi si migliora la fruizione di questa viabilità. Quindi gli interventi principali riguardano la creazione appunto di punti di accesso, quindi zone di sosta per le auto e zone di sosta per i pellegrini e sostanzialmente alcuni ripristini di sentieri e di viabilità. La segnaletica, la segnaletica, la segnaletica, volerà anche il cammino? Sì, verrà studiata una segnaletica ad hoc della cartellonistica che aiuterà appunto i pellegrini nella fruizione di questi percorsi. L'intervento forse più importante è quello che viene fatto presso la stazione ferroviaria di Bribano, quindi in comune di Sedico, dove verrà creato una struttura, un piccolo stello che sarà il primo nucleo di ricettività all'interno di questa zona e in questo progetto. Insomma, augurandoci poi che creando le opportunità il privato, quindi i cittadini e gli imprenditori privati attorno a questo progetto riescano a investire e a costruire quella ricettività che aiuterà a rendere sempre più bello e fruibile questo percorso. Quindi è anche un'occasione alla fine non solo di riappropriazione culturale, di riappropriazione spirituale anche per questi luoghi, sono meravigliosi per esempio per la meditazione, ma c'è anche una possibilità di sviluppo economico, di sviluppo del lavoro, potrebbero esserci queste ricadute, penso che sia una delle prospettive più interessanti anche per un'amministrazione. Sicuramente sì, l'amministrazione pubblica investe del denaro per valorizzare il proprio territorio con la speranza che questo porti delle ricadute positive che sono anche il lavoro che viene creato, un solo posto di lavoro creato è in porta del denaro ben investito, ecco, quindi questa è un'occasione importante per l'intera provincia di Belluno. Quanto questi luoghi fanno parte del DNA della gente? Perché di solito si tende un po' a soprassedere rispetto a quelle che sono le nostre peculiarità anche architettoniche, anche artistiche, si tende sempre ad andare a vedere, a visitare ciò che è poco fuori dal nostro territorio e quello che abbiamo in casa, lo dimentichiamo un po'. Per quanto riguarda questi territori c'è coscienza di questo tesoro che si ha intorno alle proprie case o bisogna lavorare un po' anche su questo secondo lei? Ma secondo me un po' bisogna lavorarci, nel senso che i cittadini sì, la gente ha percezione di avere delle peculiarità enormi che la possono distinguere rispetto ad altri territori e che quindi possono portare delle opportunità di sviluppo anche turistico, però a mio avviso ancora un po' di lavoro deve essere fatto e queste occasioni e queste progettualità sono appunto delle occasioni importanti da sfruttare. Da sviluppare, può diventare anche una declinazione, appunto un progetto educativo, culturale, magari anche le scuole possono diventare parte attiva di un ampliamento di questo percorso che tra l'altro credo crei anche delle sinergie importanti con altri lavori simili che si sono sviluppati sul territorio e che adesso possono essere ottimizzati. Sto pensando per esempio a ciò che sta facendo la Diocesi, sempre per quanto riguarda gli itinerari. Certamente, noi abbiamo un dialogo aperto con la Diocesi e con la provincia di Belluno che sono autori di un progetto interessantissimo che si chiama Cammino delle Dolomiti che è anch'esso un cammino di fede ed è un cammino che si sviluppa all'interno della provincia toccando tutti i punti più significativi della provincia, con delle caratteristiche un po' diverse rispetto alla Via dei Papi. Solo in alcuni punti si sovrappone. Per il resto è un'alternativa possibile che un pellegrino che decide di attraversare la provincia di Belluno può trovare per trovare dei percorsi diversi, per una meditazione diversa, un approccio diverso quindi un lavoro più di alta montagna in alcuni punti rispetto alla Via dei Papi che rimane più sul fondo valle della nostra provincia. Però creare sinergia da questi due percorsi è importante perché è un'ulteriore opportunità di sviluppo dell'intero territorio. Quindi veramente questi sono progetti che mettono in rete, fanno fare unione anche tra soggetti molto diversi tra di loro c'è la possibilità di ottimizzare mettendo insieme il meglio di ciascuno? Certamente, l'obiettivo è quello di non sprecare risorse, di non sprecare forze ma di unirle e di rendere il tutto più interessante e più fruibile a tutti. Una domanda che probabilmente chi ci sta seguendo da casa si pone è ma io ce la posso fare? Sono sentieri difficili, bisogna avere una preparazione particolare oppure anche le famiglie per esempio possono approfittare di questa occasione o le persone anziane? L'obiettivo che ci siamo posti è quello di rendere i percorsi fruibili a tutti e quindi alle famiglie piuttosto che alle persone anziane. È chiaro che comunque parliamo di cammini che vengono fatti in zone anche montane quindi un minimo di impegno lo richiedono però l'obiettivo è quello di rendere fruibile a tutti questo cammino di fede soprattutto la parte della Val Belluna quindi quella che è interessata dal progetto della Via dei Papi in cui il Comune di Sedico è Capofilia i percorsi sono veramente percorsi di fondo valle facili ed accessibili a tutti. Al di là di quello che è il percorso della fede perché noi abbiamo parlato di queste peculiarità legate ai luoghi di culto che territorio è quello all'interno del quale Sedico si trova? Perché è bello venire nei vostri territori? Sedico è un territorio bello che ha delle peculiarità diverse rispetto ad altre zone della nostra provincia chi vi si affaccia trova un territorio pianeggiante quindi attraversa zone coltivate non si inerpica su pendii impossibili poi una delle peculiarità più belle è che salendo verso Lagordino quindi verso Canale d'Agordo si entra nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi il Comune di Sedico è all'interno per il territorio del Comune di Sedico è il 65% ricompreso all'interno del Parco Nazionale quindi si ha anche questa grande opportunità di entrare in una zona naturalistica di pregio quanto per esempio rientrare all'interno di un parco condiziona anche il modo di vivere di una comunità quando va ad incidere in positivo probabilmente in termini di qualità di vita o anche di politiche proprio amministrative se viene vista sotto un'ottica di un'opportunità come la vede la mia amministrazione avere questo Parco Nazionale alle porte sostanzialmente è una grande opportunità di sviluppo diciamo che la nostra comunità non ne subisce la presenza anzi la deve vedere come una prospettiva e un'opportunità perché sostanzialmente viene ricompresa all'interno del Parco la parte più alta come quota altimetrica e quella più impervia diciamo Allora ci ha dato, signor Sendaco, tanti spunti per pensare e ripensare probabilmente anche alle nostre vacanze future concependole più come momenti di un recupero anche interiore un'occasione per meditare e anche per riscoprire dei piccoli gioielli li ho definiti spesso così nel corso di questa puntata che fanno parte di un territorio spesso un po' dimenticato un po' trascurato da tutti noi che tendiamo ad andare lontano da quella che è la nostra terra dai nostri territori quindi tante occasioni che ci ha offerto tanti spunti da segnare spero che chi ci sta seguendo lo abbia fatto io la ringrazio intanto per averci accompagnato lungo la via dei Papi noi intanto siamo arrivati comunque alla fine anche di questo appuntamento con gli itinerari della pace con questi viaggi molto particolari che stiamo facendo tra storia e fede ai tempi della grande guerra viaggi nati con il sestegno della regione per la valorizzazione del territorio veneto io ringrazio allora Stefano Deon, sindaco di Sedico per averci fatto compagnia e do invece a tutti voi appuntamento per il prossimo itinerario il prossimo viaggio che ci manterrà ancora sulle montagne bellunesi ma da una prospettiva completamente diversa vi aspettiamo grazie a tutti